Il resto la faccio solo rossolare un attimo che si chiudono le fuori e non esca il succo. Presentiamo anche Sonia che mi dicevi che ha vinto un premio proprio la scorsa settimana? Io in anteprima del Wine Festival c'è il premio Godio. Godio era il nostro poco più famoso qua. In un altro anno c'è la prima stella in Sven anche, la stella più alta dell'Europa. Lui aveva un ristorante su 1800-2000 metri. Adesso fanno sempre il suo onore, il suo premio Godio. E quest'anno il tema era Daniello della Pagliutti, la zucca, i frauti e un dolce dovevano fare. E lì la Sonia ha vinto. Allora abbiamo questo filetto di cerbo cotto e messo nel pieno che ci dà un aroma particolare al piatto. Pagliutti, appena appena poi va intonato. Ah, va nel porno? Sì, sì. Grazie.